Elda e Benedetta credo non abbiano mai partecipato ad una live assieme dopo il doppiaggio nuovo di Tomb Raider. Ma è una cosa molto carina, devo dire, sono molto contenta. Ottimo, quindi c'è posta per voi. Benvenuti a questa puntata speciale di doppio gioco che entra all'interno di Ultra Pop Festival di Propotenza e ci arriva con uno degli appuntamenti che aspettavamo di più, io e il mio compagno di viaggio qui, Federico Maggiore, ovvero quella con le due Lara, le doppietrici del personaggio forse più iconico degli anni 90, quello che ha ridefinito un po' quello che è il rapporto tra i giocatori e i personaggi femminili. Buonasera Federico. Buonasera a te Raffaele. Ovviamente il gioco di cui stiamo parlando è Tomb Raider, che tutti noi da piccoli chiamiamo Tomb Raider. E questa sera appunto abbiamo le due voci che hanno caratterizzato il personaggio, perché è un personaggio che ormai ha 25 anni, se non erro, li compi proprio quest'anno, e quindi è cambiato nel corso degli anni, è cambiato nell'aspetto ed è cambiato nella voce. Possiamo, penso, introdurre le nostre ospiti? A te l'onore. E allora chiamiamo Elda Olivieri e Benedetta Ponticelli. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera, buonasera. Ciao, grazie di questo bell'invito. Abbiamo Elda, che è un'attrice di prosa, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, milanese doc, oltre 40 anni di attività e quindi è stata ascoltata in tantissimi videogiochi. Scusami tanto se questo era solo il tuo modo di aprirmi le porte. Sarebbe un curriculum enorme. Benedetta Ponticelli, doppiatrice, invece è cresciuta in Toscana un po' dappertutto. Senza, era vuoto quando ho aperto. Non c'erano corpi e nessun manufatto, te l'assicuro. E ora sei molto ascoltata come doppiatrice di Glow. Ah, sì. Giusto. Justin Biagi. Io volevo appunto cominciare così a gamba tesa, facendo questa domanda. Lara Croft è un personaggio molto importante, ma come è avvenuto questo scambio, il passaggio del testimone? Come l'avete vissuto per Elda, che è stata la voce storica di Lara, e per Benedetta, che è diventata la nuova? Raccontateci quel momento. Allora, per me è stato... Tra l'altro in quel periodo e Elda lavoravamo insieme, perché lei mi dirigeva in un cartone, quindi eravamo anche fresche di frequentazione. Quando mi è arrivata la telefonata, io sono rimasta molto perplessa, perché mi hanno detto per Lara Croft, e io ho detto, no, aspetta, ma Lara è Elda, cioè è inscindibile. Ho detto, no, ma guarda, le abbiamo spiegato, è una cosa diversa, così e cosà. Allora io ho detto, va bene, sì, va bene, insomma, ci risentiamo. E nel frattempo ho telefonato a Elda, perché eravamo abbastanza in contatto, per dire, ma guarda, è successa questa cosa, ti risulta? E lei mi ha detto, guarda, sì, lo sapevo, mi avevano avvisato, credo i fan ti avessero avvisato, Elda, avevi... Sì, 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 mi avevano accennato a questa possibilità, però non sapevo niente, non sapevo su chi fosse caduta la scelta, non sapevo nemmeno le motivazioni specifiche, ecco, sapevo che ci sarebbero state delle puntate nuove, il gioco nuovo, ma non sapevo niente di più. E io ho anche pensato, beh, insomma, sono dieci anni, ci starà anche che svecchino il personaggio, non lo so, non sapranno più che cosa inventarsi, quindi avranno bisogno di rinventarlo nuovo, per l'appunto, ecco. E così è stato, e devo dire che mi ha fatto ovviamente molto piacere la telefonata di Benedetta, ma soprattutto sono stata contenta che il ruolo fosse stato affidato a lei. E questo me l'ha detto subito, è una cosa che mi ha fatto tanto piacere, insomma, io l'ho chiamata con la gola secca, perché insomma non è carino dire a una collega, guarda sai quel personaggio iconico che fai sempre fatto tu, adesso mi hanno detto se lo voglio fare io, non è bello. E invece lei è stata molto carina, mi ha detto proprio quello che ha detto adesso, che era contenta, e quindi l'ho potuto fare rilassata, diciamo. Sì, ma anche perché, insomma, voglio dire, sotto un certo aspetto è anche normale, no? Le cose cambiano, evolvono, i personaggi, le persone, la storia, tutto cambia, tutto si evolve, e quindi ci sta pure che qualcun altro subentri al posto tuo, non è mica un dramma, voglio dire, poi c'è anche posto per tutti su questo pianeta, ci deve essere. Tra l'altro un record italiano, perché in tutta la saga è stato doppiato Tomb Raider, quindi Lara, da almeno quattro doppiatrici originali, quindi in lingua americana-inglese, quindi una decina di titoli, tutti per te, Elda, e almeno tre per Benedetta. Per te invece, Elda, qual è stato il primo incontro, il primo approccio con Lara? Dunque, se non sbaglio, deve essere anche stato proprio il mio primo videogioco, devo dirti la verità che non lo so con esattezza, però ho come questa sensazione, quantomeno è quello che ricordo. Lara in quell'occasione era ancora un disegno un po' grezzo, diciamo così, no? E in realtà mi ricordo che il personaggio era relegato a una serie di istruzioni, dava istruzioni al giocatore su come si doveva fare per spostarla, per farla saltare, per farla andare a sinistra, a destra, avanti, indietro, una cosa del genere. Io credo che, non ricordo male, mi avessero semplicemente chiamata per fare questo personaggio, perché volevano comunque una voce gradevole, diciamo così, no? Dal momento in cui doveva dare solo delle istruzioni, quantomeno che queste fossero il più gradevole possibile, più, in qualche modo, piacevoli all'ascolto, ecco, e non noiose, visto che erano tantissime. E devo dire che mi sono divertita molto, anche perché io mi diverto sempre molto comunque, mi piace sempre quello che faccio, ma era quasi un gioco ipnotico, nel senso che dovendo fare un file per volta, io dall'altra parte avevo come un segnale da parte del fonico che aveva spostato sul file successivo, e quindi era diventato quasi un esercizio di respirazione, di rilassamento, no? Perché si seguiva quasi il ritmo cardiaco, non so come dire, su queste istruzioni. Quindi fu anche una bella sessione rilassante, in un qualche modo, no? Finito, questo è stato il mio approccio con Lara Croft, è iniziato così. Tutto è iniziato così. Poi piano piano il personaggio è cresciuto, hanno cominciato a subentrare le storie, le famiglie, le complicazioni, eccetera, eccetera. Benedetta, tu hai avuto, diciamo, è stato difficile per te trovare la nuova voce di Lara, è stata la tua, oppure Elda ti ha influito, ha influenzato in qualche modo? No, cioè, magari, nel senso che il timbro caldo di Elda, che a me personalmente piace così tanto, e credo anche a tutti i fan di Lara, insomma, altrimenti sicuramente quelli in ascolto, altrimenti non sarebbero qui, è molto distante dalla mia voce, ahimè. Purtroppo è così, ognuno nasce con una voce diversa. E in questo caso ha giocato molto il fatto che la Lara nuova fosse completamente estranea a tutto quello che era la Lara conosciuta da tutti quanti, perché era molto, neanche bambina, era ragazzina, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista crescere negli anni. È giusto, è giusto. E piano piano, ecco, forse è stato un po' più difficile nell'ultimo capitolo, perché lì era il momento di doversi un po' avvicinare, appunto, visto che non sappiamo quali sono i progetti dei nuovi videogiochi, lì c'è il momento in cui si doveva un po', almeno nella mia testa, avvicinare a quello che era la Lara di prima, che in realtà era la Lara di dopo, no? È tutto un circolo strano. L'hai vista con un prequel e quindi sapevi già dove dovevi andare a parare, cioè la voce di Elda? Esattamente, esattamente. Per esempio, una cosa tenerissima che mi aveva raccontato la fonica, perché l'ultimo capitolo ho avuto una fonica donna, che raccontava che giocava da piccola a Tomb Raider, io lo dico così. Sì, 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 sì. Avete pazienza. Benissimo. In braccio alla sua mamma. Quindi era una cosa meravigliosa, perché proprio di generazione in generazione. Anche mia mamma, quando io ero piccolo giocava a Tomb Raider, nonostante lei sia del 68, quindi era già grande quando è uscito il gioco, si è avvicinata prima di me a quella che è l'avventura di Lara Croft e tuttora mi odia perché a un certo punto le ho bloccato il gioco salvando in un punto sbagliato. E quindi ha rovinato il nostro rapporto per sempre. Cos'era un bug? Felda, fai una dedica alla mamma di Raffaele, così almeno rimedi il bando. Qual è stata la sfida più difficile nel dare voce a Lara per entrambe? Mi sa che non saprei rispondere a questa domanda. Quindi vuol dire che non ti ha creato particolari problemi? Ma no, non mi ha creato particolari problemi. E poi anche perché sono dell'opinione che non ci sia nulla di difficile. Cioè, forse qualcosa che non si conosce ancora, che bisogna studiare, ma di difficile, no. Benedetta, tu hai dovuto fare tanti sforzi per blocchiare. E come hai gestito tutto questo piatto? E come dovevi seguirlo, giusto? In video? No, no, non erano in video. Praticamente avevamo fatto, me lo ricordo perché è stato un turno da incubo, praticamente abbiamo fatto tutto il videogioco e poi a un certo punto sono arrivata e mi hanno detto tranquilla, oggi è una giornata tutta in discesa, hai solo versi. Solo versi vuol dire praticamente tre ore di oh, ah, oh, ah, tutto così. Per cui ogni tanto so che dovevo dire ragazzi aspettate un attimo perché mi girava la testa, perché soprattutto erano i fiati il problema, più che altro. perché a forza di fare piatti, 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 cioè a un certo punto cominci a vedere tutto appannato e ti devi fermare un attimo. Volevo aggiungere una piccola cosa a proposito della sessione dei versi che infatti normalmente arriva alla fine, no? Quello per me per esempio è, come hai detto appena tu, è un momento liberatorio perché diventa un gioco a ricreare esattamente l'intensità e la lunghezza e la tipologia di verso che tu senti. Cioè quindi è una gara, a quel punto diventa un gioco e io lì rido come una matta, mi diverto sempre tantissimo. Forse non mi sono capitate mai delle tre ore intere di verso. Se è stato così per te capisco che deve essere stato assai faticoso. Io ho sempre avuto l'impressione che Elda fosse particolarmente amata, particolarmente vicina ai fan dei videogiochi. Cioè molto più magari di altri, c'è proprio un'identificazione, non lo so, ditemi voi se mi sbaglio, però mi sembra proprio che ci sia un legame di sangue con Elda e i suoi giocatori tutto sommato. E allora faccio la domanda, qual è il vostro rapporto con i fan? Beh, bello! Bello, in effetti bello. Mi hanno sempre dato delle belle soddisfazioni, a volte mi hanno anche toccato il cuore. Non so come dire, non è che io abbia contatti o... Io poi per esempio non sono per niente social, per cui non sono da nessuna parte. Ecco, se per caso capita che ci sia una dedica piuttosto che qualcosa è perché mi viene richiesto. Allora lo concedo volentieri, lo faccio volentieri perché è una cosa che mi piace, che mi fa piacere farlo, ecco. Non ho mai fatto niente per conquistarmi questa cosa, ecco, proprio perché non sono social, per cui a maggior ragione mi fa piacere, ecco. Mi dà soddisfazione. E lo dimostrano anche in chat, vi amano completamente. No, sono molto... E poi sono molto belli i fan di Lara, sono... Beh, c'è questo... Oddio, adesso sicuramente sbaglio i termini, però il Tomb Raider Italia, ho visto che prima hanno commentato, ho preso commentate ancora così mi confermate, che sono proprio una comunità molto bella, sono... Quella è proprio una cosa bellissima da vedere, dalla primissima Lara. È una cosa che non ho mai visto, deve essere stupendo. Ma non l'ho mai visto? No, ti prego, devo cercare delle foto e te le devo mandare. Sì, volentieri, davvero, ma ti prego veramente. Sì, 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 eccola, eccola, Berni siamo noi, eccola, Tomb Raider Italia. L'ho detto, è diventata c'è posta per te. È bello, è proprio bello, è una cosa di famiglia, è una cosa dove quando mi è capitato di arrivare, anche vergognandomi, perché arrivi un po' imbarazzato, non conosci nulla, nessuno, dici boh, cosa vuol dire fan, che significa? E questi che ti si fanno intorno, ti abbracciano proprio e dicono... Ogni volta che apri bocca fanno, ti emozionano, no? Io non sto facendo niente. È bellissimo, è proprio una cosa meravigliosa. Io volevo sapere se c'è stato un momento in cui potevate finire a doppiare anche la Lara cinematografica e qual è un po' il vostro rapporto con quel personaggio lì, perché alla fine è un po' parallelo, ma anche differente, no? Rispetto a quello dei videogiochi. Allora, io devo confessare che il film non l'ho visto, perché erosico troppo. Ho detto che erosico troppo perché non ho visto il film, perché mi sarei immaginata per tutto il film, oh, come l'avrei fatta, oh, no, l'hai già... Capito? Cioè, no, no. Elda, avresti voluto doppiare, Angelina, Io sinceramente avevo pensato che fosse la cosa più normale del mio pianeta, sono anni che faccio la Lara Croft, è chiaro che fanno il film è l'occasione giusta per, ma in realtà non interessava, poi esisteva già la doppiatrice ufficiale di Angelina e quindi ciccia. Però è stata una bella soddisfazione perché i fan non erano tanto contenti, eh. No, no. A proposito di questo rapporto, no, con la Lara del cinema, se dovesse esserci domani una serie tv su Tom Reda, vi piacerebbe essere coinvolte magari come voce delle attrici della serie oppure non sareste... No, lo snobbiamo, vero, Angelina? Soprattutto noi siamo. Siamo ad un altro livello. Sarà lei o sarò io? Come sarà mai? Questa storia è durissima. Chi lo sa? Vabbè. Sarebbe bello, sarebbe bello. Visto che siamo nell'Ultra Pop Festival, ci sono delle serie tv che preferite? In questo momento c'è il vuoto, però sicuramente sì. No, non ci sono. Io non le ho. Adesso io sono una mangiatrice di serie, però. Ma io sono bulimica di serie. Vorrei che mi venisse in mente un titolo in questo momento, non mi sta venendo assolutamente niente. L'avrai digerito in tutti i sensi. Mi fate la voce di Lara Croft? Mayday, mayday. Qui è Lara Croft dell'Endurance. Bene. Va bene. Il resto l'abbiamo immaginato. Dimmene un'altra, dimmene un'altra, perché io non saprei che cosa dire. Io non saprei che cosa dire. Beh, dici le prime istruzioni che facevi. A me interessa vai. Adesso mi ricordi le prime istruzioni. Ti chiedono di dire benvenuto nella mia umile dimore. Benvenuto nella mia umile dimore. Vabbè, anche l'elenco della spesa va bene. Cos'è per voi una bella voce? Stavo per dire quella di Benedetta. No, benissimo. Allora, vai, togliamo il pannello. C'è posta per fese, abbiamo terminato. Anche la tua, Federico, è una bella voce. Molto piacevole, molto gradevole. Io credo che una bella voce è quella che sa comunicare, che sa raccontare. E poi il resto è tecnica, è inutile, quindi lasciamo stare la tecnica. Io vi ringrazio e quindi, Raffaele, andiamo a salutare tutti. Vi saluto ancora una volta, vi ringrazio e vi do una buona continuazione per l'Ultra Pop Festival. Grazie mille. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Buona continuazione. Ciao. Ciao.